La nuova Juventus Lui che arriva dalla regina si è presentato con le Final 8 allievi nazionali Serie A e B E' stato il portiere meno battuto con i bianconeri che risultano con solo 3 gol La difesa meno battuta di tutte le Final 8 La nuova Juventus La prestazione soprattutto contro l'Atalanta malgrado la sconfitta ai tempi supplementari Lui risulta uno dei migliori in campo con molte parade decisive per i bianconeri Per lui a fine stagione arriverà anche il premio come la convocazione da parte di Massimiliano Allegri nel ritiro con Dybala e compagni Per lui nella prossima stagione ci sarà il campionato primavera sotto gli ordini di Fabio Grosso Ma non ci stupiremo se qualche volta lo vedremo tra i convocati di Massimiliano Allegri Anche in Serie A 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 Anche in Serie A